Se nel centro-destra ci sono delle tensioni, a sinistra non se la passano benissimo. Clemente Mastella, ospite di Gaia Tortora Omnibus, sulla 7, nella puntata del 17 ottobre, attacca Walter Verini sulle politiche del Partito Democratico in vista del Congresso, il PD non è più il PD, quello con le motivazioni per cui era nato, affonda il sindaco di Benevento. Ha perso il contatto con la realtà. Dal 2006 il PD non vince un'elezione in Italia, attacca ancora Mastella. Volete affrontare la questione del mancato apporto di consenso degli operai che votano la Lega? Non siete più quelli che siete. I suoi consigli li accetto, risponde il deputato del PD. Milioni di persone in Italia hanno bisogno di un soggetto, il Partito Democratico, e per questo dobbiamo ripartire dai fondamentali, dalle piazze, dai luoghi dove la gente vive, soffre e si rimbocca le maniche, conclude Verini. Che si pone una domanda, ce la faremo. Se non lo sanno loro.